Di Castaldo ho giocato, Mucelina, Benevento, Juve Stabia e adesso è il simbolo dell'Avellino. Perché la campania? Perché non sei mai voluto andare via dall'acquaterra? Una storia molto particolare. Ma sicuramente ho avuto sempre le squadre campane che mi hanno cercato, poi sono sicuramente attaccato alla mia terra e qui diciamo ho fatto una buona carriera, quindi ho sempre trovato bene tutte le squadre campane che ho militato. Chi conosce le tue qualità, chi vede i tuoi gol, chi conosce il campionato di Serie B, che ricordiamo Ale, chiaramente sarà un'esclusiva Sky per la prossima stagione, per le prossime tre stagioni, dice ma che ci fa Castaldo in Serie B con quelle qualità rovesciate, gol in atropazia, perché non sei mai andato in Serie A, colpa tua? Ci puoi raccontare il perché un giocatore con le tue caratteristiche non è mai arrivato a sfondare? Questo non lo so, sicuramente è un po' di colpa, c'è l'ho, quello è sicuro, però ripeto non rimpiango niente, nessuna scelta fatta in passato, quindi adesso penso solo all'Avellino, sto bene a te. Stiamo vedendo le immagini di questa serata di festa, Ale con la restituzione del logo, che Castaldo già indossa nella maglia di allenamento, Lo ringraziamo e tra poco con Attilio Tesser parleremo chiaramente di Avellino, ma non solo, faremo una panoramica con lui nel campionato di Serie B e non solo. Grazie a Gilles.